viaggio l'esploratore scena bambi prova 1 azione ciao a tutti sono viaggio l'esploratore oggi vi porteremo in un posto in cui abbiamo fatto una straordinaria scoperta seguitemi viaggio l'esploratore scena bambi prova 1 azione proprio in questo punto abbiamo avvistato un capriolo appena nato che faceva i suoi primi passi con la sua mamma alla scoperta del bosco guardate che bella questa scena ecco la mamma capriolo in cerca di cibo bambi è ancora nella sua pancia infatti ha la pancia bella grande e si muove a fatica ecco il nostro bambi ancora un po' incerto sulle sue ditte deve essere nato da pochissimo e già curioso di scoprire in cosa Ciao ciao Bambi Torna a trovarci Seguiteci Al prossimo video iscrivetevi al canale youtube Ciao 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 Ciao